Il tasso di disoccupazione a novembre si attesta al 12,7% in crescita rispetto al 12,5% registrato ad ottobre. Ma la preoccupazione principale deriva dal tasso di disoccupazione giovanile che continua a crescere. A novembre 2013 ha toccato il 41,6% in aumento dello 0,2% rispetto a ottobre e di 4 punti rispetto a novembre 2012. Sono i dati che ha raccolto l'Istat spiegando che il tasso è al top dall'inizio delle serie storiche, cioè dal 1977. L'Istat è precisa inoltre che a novembre 2013 erano occupati 924.000 giovani tra i 15 e i 24 anni, in calo di 12.000 unità rispetto al mese precedente e di 131.000 su base annua. I giovani disoccupati sono 659.000 con un aumento di 23.000 unità rispetto a novembre 2012. Se andiamo invece ad escludere le fasce d'età, i disoccupati a novembre erano 3.254.000, in aumento di 57.000 unità rispetto a ottobre e di 351.000 unità rispetto a novembre 2012. La crescita tendenziale della disoccupazione è molto più consistente per gli uomini, 17,2%, che per le donne, 6,1%.